Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo il video sui migliori della Serie A, vi porto quello che è il video sui migliori della Premier League. Ci tengo però a far presente una cosa. Ogni volta che vi porto un video di questo tipo, vi riporto quella che è la mia esperienza di gioco, oltre a quelle che sono valutazioni oggettive. Per cui, se vado a mettere un giocatore piuttosto che un altro, A, o c'è un motivo di fondo, o B, è semplicemente una mia valutazione personale. Ciò non toglie che magari un giocatore col quale voi vi trovate bene sia comunque valido. Piuttosto, ditemelo nei commenti senza dirmi non capisci niente, perché qualcuno, in minima parte, fa commenti di questo tipo e non credo che sia, insomma, utile e non porti da nessuna parte. Quindi, apriamo un dibattito. I commenti servono a questo. In particolar modo, per la Premier League ho fatto delle scelte che sono sicuro sanno definite abbastanza particolari in alcuni ruoli. Quindi, insomma, ci tengo particolarmente al confronto. Mi raccomando, non mi fate cadere le braccia sottoterra. Detto questo, direi subito di andare a iniziare con i portieri. Portieri, categoria la più soggettiva possibile che troviamo all'interno di questo videogame. Io ho deciso di indicare i due portieri in Premier League che hanno fatto le mie fortune. Il primo è sicuramente Areola, il quale per rapporto qualità-prezzo penso sia veramente imbattibile. Mi ci trovo benissimo e alto, un metro e novantacinque. Ottimi interventi sui tiri dalla distanza, ottimi interventi in uscita, ottimi interventi anche con i piedi. Veramente un portiere che mi ha dato tanta, tanta sicurezza e me lo sono portato dietro, vedete, per quasi 400 partite. Senza contare tutte quelle che sono amichevoli, qualifiche, eccetera, eccetera, che non appaiono all'interno del calcolo delle partite totali di un giocatore. Ma veramente, veramente valido e come per quanto riguarda tutti i portieri, sapete, lo stile d'intesa che gli dovete dare è base. Noi gli mettete guanto, muro, gatto, felino, leoncino, perché non servono a niente. Lo stile d'intesa base va più che bene. Arfa al compagnia d'Areola troviamo Ederson If, un altro portiere molto molto forte, a mio avviso. Un metro e 88, quindi sensibilmente più basso rispetto ad Areola, quindi magari soffre, ho notato, un po' di più su quelle che sono magari le conclusioni a giro da fuori, soprattutto di super player come Renove, Mbappetotti, Cristiano Totti, eccetera, eccetera, ma ha dalla sua un ottimo rinvio, quindi con i piedi se la cava veramente bene ed è utile anche per sfuggire da quelle che sono situazioni di pressing, eccetera, eccetera, per cui il buon Ederson sicuramente si piazza al secondo posto. Dove sono Art, Allison, eccetera, eccetera, non li inserisco perché altrimenti diventava una categoria di soli portieri, diventava un video dove analizziamo tutti i giocatori, questi sono i miei due personali preferiti, quindi Areola ed Ederson. Per quanto riguarda Allison l'ho provato e lo trovo inferiore a questi, Art ne ho lette di ogni, sia che sia buono che negativo, quindi nel caso l'avete sbloccato fatemi sapere per voi come rende. Passiamo a quello che è il comparto difensivo e ci affacciamo al ruolo dei terzini destri, che in Premier League ha una grande abbondanza. Quelli che sono i miei due terzini destri preferiti sono Cancelo nella sua versione Road to the Final, quindi elemento dinamico che a breve diventerà 88, probabilmente quando vedete il video sarà già diventato 88, perché l'ho registrato un po' prima, porta benissimo il pallone, 1,82 m alto normale, 4 di skill molto utile, 3 di piede debole, fa degli ottimi passaggi, ha delle ottime statistiche difensive, è anche agile, è abbastanza aggressivo, pecca un pochino in forza, ma vi assicuro che Cancelo fa il suo, mi ci trovo veramente bene, attualmente uso l'86 per una questione di crediti e anche il suo lo fa, quindi Cancelo promosso a pieni voti. A far compagnia Cancelo abbiamo Riccardo Pereira nella sua versione What If, quindi probabilmente che si andrà anch'esso ad upgradare, 3 di skill e 4 di piede debole, 1,75 m alto alto, quindi ottimo work rate. Ovviamente è molto molto veloce, anche qui abbiamo degli ottimi passaggi che per un terzino sono fondamentali, soprattutto per andare a servire gli esterni, magari in un 4-4-2 o in un 4-2-3-1, ottime statistiche di agilità, anche statistiche difensive, qui abbiamo un'ottima aggressività e anche una forza un po' più alta, quindi ottimo giocatore Riccardo Pereira. Abbandonando quello che è il lato dei terzini difensivi, destri, andiamo a vedere quelli che sono i difensori centrali. Ovviamente un'altra premessa è che in questa classifica mancano i toti, perché non ve lo devo dire, io che Van Dijk toti è il miglior difensore centrale in Premier League, così come Arnold è un buon terzino che potete adattare anche a centrocampo, difensore centrale, eccetera eccetera, questi sono giocatori diciamo un po' più accessibili, sebbene comunque alcuni costino comunque abbastanza. Walker If, giocatore devastante raga, che io ho intenzione di riprendere quanto prima, 1,83 m alto alto, ha dei buoni passaggi ovviamente perché nasce terzino, ottimi parametri per quanto riguarda la difesa, pecca un pochino in lettura, ma devo dire che se la cava molto molto bene, perde raramente contrasti, sempre sulla linea dei passaggi, sempre pronto e reattivo nell'andare a scivolare addosso agli avversari, buona forza e discreta aggressività. Se avesse quei parametri di forza e aggressività più alti sarebbe tipo illegale. Mi ci trovo veramente bene, è salito infatti in maniera esponenziale il suo prezzo e il suo lo fa alla grandissima. Domanda solita, posso mettere Walker quello terzino destro a fare il difensore centrale a 7 o a 10? No, vi assicuro che questo è come se fosse un altro giocatore, non mi chiedete il perché, ma è totalmente un altro giocatore. Secondo difensore è un terzino destro che andiamo ad adattare, il gran Rhys James, che in questo momento io sto utilizzando la titolare, 1,82 m, alto normale, 3-3, anche in questo caso abbiamo dei discreti passaggi per un difensore, agilissimo, quindi con l'L2 riesce a star dietro a tutti quelli che sono i micromovimenti degli avversari, per cui si scivola alla grande e reagisce a quelli che sono appunto i cambi di direzione, interviene perfettamente con contrasti scivolate, molta forza e anche aggressivo, veramente tanta roba Rhys, soprattutto per quanto riguarda anche quelli che sono magari interventi con la difesa abbastanza alta per andare a recuperare palla, promosso a pieni voti, vale la pena switcharlo da difensore centrale. A chiudere questo pacchetto abbiamo Gomez nella sua versione IF, questo raga è anche qui, l'ho utilizzato, fortissimo, 1,88 m, normale, un discreto passaggio corto che alla fine è quello che serve per un difensore centrale, è molto rapido, tanta roba alle statistiche difensive, fa anche tanti interventi automatici, ha una stazza importante che gli permette di poter andare deciso su quelli che sono i contrasti e le scivolate, forza 85, aggressività 83. Quindi questo per quanto riguarda il pacchetto dei difensori centrali, che io reputo fondamentali, soprattutto in quello che è un meta basato sui filtranti, dove abbiamo bisogno di difensori che hanno appunto determinate caratteristiche. Dal punto di vista invece dei laterali sinistri di difesa, il primo che vado a individuare è Zinchenko, un terzino veramente valido, che è utilizzato anche nel competitive ad esempio da pro player di fama mondiale come Oliboli, alto normale, piede sinistro 3-3, ha degli ottimi, ottimi passaggi, sia il corto che il lungo veramente lodevoli, quindi questo veramente è un punto a favore. È molto agile, statistiche difensive al top, tanta roba all'aggressività, meno la forza, è molto veloce. Questo però purtroppo era uno showdown, quindi una SBC, se non l'avete sbloccato non potete più ottenerlo, però sappiate che qualora l'avete fatto, questo è veramente una gemma ed è un difensore con i controfiocchi, può fare tranquillamente anche il laterale in un 5-3-2 perché porta bene palla e la sa anche scaricare, quindi tanta roba Zinchenko. Altro terzino che mi viene da indicare è Reguillon, anche qui parliamo di un giocatore molto molto valido, 1,78 m, rendimento alto normale, piede sinistro 2 di skill 3 di piede debole, molto rapido, passaggio corto bene, il lungo un po' meno, tanta roba per quanto riguarda anche i parametri di agilità, eccetera, eccetera, abbiamo poi quelli che sono parametri di difesa, ovviamente anche qui eccezionali, anche la lettura difensiva che gli permette di fare le diagonali, forza 71 e aggressività 78 sono un attimino le note dolenti, però anche qui parliamo di un giocatore che è molto valido, visto che sull'auto di sinistra non è che c'è questa gran abbondanza lì in Premier League. Ci sarebbe da menzionare anche Van Anolt, ma per non mettere troppe carte sullo stesso ruolo ho preferito indicare questi due come i due miei preferiti, diciamo che si potrebbe sostituire Zinchenko con Van Anolt, nel caso appunto facciamo riferimento a quello che è una carta, diciamo, non scambiabile che non potete più ottenere. Passando a quelli che sono i centrocampisti, quindi CC e CDC, il primo che vi vado a indicare è Bruno nella versione Potm. Questo ragazzi, se ve lo siete fatto, per me è un clamoroso giocatore, meglio pure del Toti, termini rapporto qualità prezzo, ovviamente il Toti è illegale, però di questo parliamo di un fuoriclasse. 4-4, 1-79 alto-alto, ottimi passaggi, finalizza di Cristo, super agile, gli manca un pelo di aggressività, lettura difensiva 79, intercettazione 82, che quindi gli permettono di poter difendere anche bene. Qualora ovviamente non abbiate fatto questo, ci sono anche le versioni 91-90 eccetera, che sono comunque molto voltovalide. L'unica che eviterei a questo punto è la base e la 88, perché cambia poco tra la base e il primo if. Quindi, Brunello, tanta roba, giocatore veramente totale e letale. Così come veramente un bel giocatore, Curtis Jones, un'altra SBC che purtroppo, se non l'avete fatto, è un problema, 1-85 alto-alto, 4-4, quella che diciamo l'evoluzione, diciamo di Firmino Freeze, per me meglio questo giocatore qua, rapido, finalizza anche discretamente, 91 di potenza tiro, 82 di finalizzazione, passaggi clamorosi, agilità 84, quindi con l'L2, scivola bene, forza 82, aggressività 91, si attacca alle caviglie degli avversari e non le molla. Ovviamente è preferibile utilizzarlo se avete uno stile di difesa manuale, perché ogni tanto si fa trovare magari in posizioni diciamo allegre del campo, però parliamo in questo caso di un altro giocatore che è veramente da top top fascia. A chiudere questo terzetto del centrocampo, vi vado a indicare in golo Canté nella sua versione what if, ovviamente anche l'if e il base, ancora dicono la sua, normale alto 1,68. Ottimi passaggi di in golo, ovviamente è rapido, molto agile con l'L2 chiaramente, vista la stazza, a forza 80 e aggressività 93, quindi praticamente come un pitbull si attacca alle caviglie fino a quando non va staccato la palla, che sarebbe la carne nel caso del pitbull, e anche ottime statistiche difensive, quindi tanta roba Canté, costa tanto, però stiamo parlando di un giocatore che diciamo si avvicina un po' al toti del passato e dovrebbe anche volentieri poter prendere un upgrade, quindi tanta tanta roba. Passiamo invece a quelli che sono gli attaccanti, che io vi vado ad indicare, e il primo è Zaa, già vi dico che sugli attaccanti si potrebbe parlare per ore. Vi indico Zaa perché, a dispetto del 3 di piede debole, c'è 5 di skill, che sapete che per me quest'anno fanno la differenza, ha una buona potenza tiro, una discreta finalizzazione, una buona freddezza, risulta agile, nonostante l'82 di forza, vi assicuro l'ho provato, non è che viene appesantito più di tanto, ha dei passaggi un po' così e così, motivo per il quale eviterei da usarlo esterno o C o C, controllo palla automata, dribbling 94, quindi ho un giocatore molto molto eclettico, anche palla al piede, e ve lo indico da punta, visto che secondo me tutti gli attaccanti che ci sono in Premier League sono uno scam, del tipo Bameyang costa una valanga, Cavani non è sto fenomeno, Kane non ve lo dico proprio, Aguero non è nulla di eccezionale, Zaa, che è anche un headliner, quindi un elemento dinamico che può andare solo a migliorare, ho, insomma, la volontà di inserirlo tra quelli che sono per me le migliori prime punte, diciamo, di ruolo all'interno di questo, di questo campionato, così come andrei a considerare una punta anche MaxiMann per via della sua altezza, della sua agilità, del 5 di skill e del 4 piede debole. Il problema di MaxiMann è per l'80 di finalizzazione, allora, qua digressione, perché l'ho provato, sia da esterno che da punta, e vi assicuro che sia da esterno che da punta, il suo bene o male lo va a fare, per cui, non è così deleterio con l'80, certo, ogni tanto qualche gol se lo caga, però diciamo che anche in termini di rifinitura spesso e volentieri dentro l'area, soprattutto se lo giocate da seconda punta, si appoggia bene, quindi lo vado a preferire per questo, da punta piuttosto che da esterno, visto che da esterno è piccolino e non prende più di tanto velocità, quindi lo vado a indicare tra i giocatori offensivi per questo motivo. Così come vado a indicare tra i giocatori offensivi di Ogo Yota che è un giocatore fondamentalmente alla Maxi Man, piccolino, molto agile, con 4 di skill e stavolta e 5 di piede debole, quindi imprevedibilità nel girarsi con ambo i piedi, passaggio corto e lungo sono discreti, molto raggile come vi avevo detto, freddezza 89, finalizzazione che in questo caso aumenta, cioè praticamente i stessi parametri di Zao 84-89 ed è un giocatore molto molto valido e probabilmente anche sottovalutato sia in questa versione OTV sia nella versione IF che è uscita. Andiamo a vedere adesso quelli che sono i laterali destri, laterali destri dove secondo me vi triggererete in maniera importante perché io qui vado a indicare Marets ma Marets ve lo vado a indicare per piazzarlo in realtà come CoC, Marets secondo me è l'unico CoC decente in Premier League. Tutti gli altri hanno diverse problematiche, non vi indico magari un De Bruyne perché è troppo lento, non vi indico un Firmino perché è un po' così e così, vi indico sto Marets perché è veramente un bel giocatore, ha degli ottimi passaggi, una buona velocità, una buona potenza a dire, una buona finalizzazione, è agile, ha un ottimo dribbling quindi lo fa perfettamente visto che ha anche 5 di skill e 4 di piede debole. Quindi tanta roba Marets da CoC e non da esterno perché da esterno per me l'unico decente, l'unico decente se non l'avevi fatto Lucas quello dell'Europa League è Stosaka perché ha 4-4, 1,78 m, è molto veloce, ottimi passaggi, un'ottima finalizzazione e una potenza tiro, ottima agilità, resistenza, ha tutti i parametri al suo posto, costa tanto ma regà a me che mi andate a mettere 3 di piede debole proprio ne la faccio, costano un sacco di soldi pure loro tranne la figna che è molto cheap ma proprio non ce la faccio a guardarli più forte di me 3 di piede debole io non li posso vedere si cagano i passaggi, si cadono i gol e quindi almeno 4 di piede debole me lo devono avere Stosaka è veramente un bel giocatorino e per me l'unico esterno destro di ruolo che merita piuttosto ci vado ad adattare un esterno sinistro dove c'è abbondanza a destra con 7 di intesa se non riuscite a prendere Stosaka secondo me parliamo invece di laterali sinistri il primo che vi vado a indicare è Rashford e ve lo indico nella sua versione esterno ma per dirvi che potete adattarlo anche a punta quindi non ho messo la sua versione 87 da atti puro o la 86 if perché abbiamo questa che è la migliore lo potete adattare tranquillamente anche in game 1,86 m alto normale 5,4 potenza tiro 97 tira delle mine 89 di finalizzazione ottimi parametri di agilità anche se l'82 di forza è la stazza che comunque è abbastanza importante non è che lo rendono agile come un maxi man però comunque palla al piede non è così piantato questo è un giocatore veramente tanta tanta roba costa quello che costa però insomma il suo lo fa in maniera più che egregia così come lo fa in maniera egregia anche sto Steven Bergui nell'esterno 4,4 1,78 molto rapido finalizza anche discretamente tanta roba il passaggio corto molto molto agile la forza 94 vi assicuro non lo appesantisce più di tanto visto che ha un body type molto particolare ha un'ottima freddezza ottimo controllo palla eccetera eccetera sto Bergui l'ha provato anche Daniel ha detto che si è trovato veramente bene quindi Bergui da esterno veramente promosso a pieni voti a concludere questo reparto vi inserisco Manet candidato Toti perché secondo me è uno degli esterni migliori del gioco per quanto riguarda non solo la Premier League ma proprio in generale perché si speedboost che è una bellezza a 4,4 finalizza discretamente bene con 95,89 i passaggi tranne il lungo sono ok è molto agile ottimo controllo palla eccetera eccetera questo qua è tanta tanta roba potete anche andarlo a utilizzare da punta nella sua versione freeze però ho deciso di mettervi questa qua per indicarlo come esterno nella sua versione migliore possibile però calcolate che potete utilizzarlo anche da punta soprattutto in un attacca 2 e sfruttare i filtranti la sua rapidità quindi diciamo che per quanto riguarda il quadro completo in Premier League su quelli che attualmente secondo me sono i migliori giocatori anche in termini di ibridabilità in altre squadre sono questi vi ripeto fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti senza darmi addosso perché questa è la mia semplice opinione ragazzi non solo la Bibbia o il Vangelo mi piace molto dialogare e confrontarmi non è che io vi dico una cosa ed è quella anzi si impara sempre nella vita quindi lasciate un commento al riguardo fatemi sapere appunto le vostre opinioni lasciate un like trovate in descrizione tutte le info per le live sulla piattaforma Viola giornaliere a me non resta altro che salutarvi un abbraccio e un salutone al vostro Riberoschi bella a me non resta